Siamo ancora nel crossodromo di Borgo Santarita e siamo nuovamente con Marco Giusti che è arrivato quarto assoluto nel QX5, la nuova categoria del Cod Cross. Marco raccontaci un attimo com'è andata perché purtroppo non sei riuscito nell'impresa di arrivare subito sul podio. Grande rammarico perché non sono allenato, non essendo tornato dalle ferie non ho ancora ripreso il ritmo e ho cruciato il podio per mancanza di allenamento. Confermo che mi sono divertito, siamo tutti lì, basta spingere con l'allenamento è bella, è una categoria adatta a noi comuni mortali che penso ci sia a margine per tutti per divertirsi. Perciò continueremo a vederti il prossimo anno in questa nuova categoria? Ci provo. Dai, allora ti salutiamo e speriamo di rivederci ancora in QX5. Ciao Marco. Grazie.